la signora bonderois sì la signora bonderois davvero ve lo dico io la signora bonderois l'anziana dama con la cuffia di pizzo la devota la santa la rispettabile signora bonderois coi ricciolini finti che sembrano appiccicati tutti intorno alla testa proprio lei ma via siete pazzo ve lo giuro allora raccontatemi con tutti i particolari ecco qui fin da quando era vivo il signor bonderois il notaio si diceva che la signora bonderois adibisse al suo servizio i giovani di studio è una di quelle borghese rispettabili dai vizi segreti e dai principi inflessibili come ce ne sono tante le piacevano i bei giovanotti che c'è di strano a noi non piacciono le belle ragazze morto il vecchio bonderois la vedova è vissuta di rendita tranquilla e irreprensibile andava sempre in chiesa parlava con sprecio del suo prossimo e su di lei non c'era nulla da ridire poi è invecchiata è diventata la signora anziana che conoscete voi scontenta acida cattiva ecco ora l'incredibile avventura capitata giovedì scorso come saprete il mio amico jean d'englemer è capitano di cavalleria presta servizio nel sobborgo della rivette l'altra mattina arrivando in caserma è venuto a sapere che due uomini della sua compagnia se le erano date di santa ragione le leggi dell'onore militare sono severe c'è stato un duello dopo i militari si sono li ha pacificati e interrogati dal loro ufficiale gli hanno raccontato il motivo del litigio si erano picchiati a causa della signora bonderois oh sì amico mio per la signora bonderois ma lasciamo la parola al cavalleggero si balla ecco com'è andata signor capitano un anno e mezzo fa stavo passeggiando per il corso verso le sei o le sette di sera quando mi si avvicina a una donna mi ha detto come se volesse chiedermi di indicarle la strada militare volete guadagnarvi onestamente 10 franchi la settimana ho risposto di sì ai vostri ordini signora allora mi ha detto venite a casa mia domani a mezzogiorno sono la signora bonderois e abito in rue de la tranchée numero 6 state tranquilla signora non mancherò e se ne andata tutta soddisfatta aggiungendo tante grazie militare sono io che ringrazio voi signora non mi è rimasto che aspettare il giorno dopo a mezzogiorno ho suonato a casa sua è venuta ad aprirmi lei aveva la testa piena di nastrini facciamo presto ha detto prima che ritorni la domestica ho risposto voglio far presto anch'io che devo fare lei si è messa a ridere ha detto non capisci eh furbacchione parola d'onore signor capitano non mi ci raccapezzavo lei mi si è seduta accanto e ha detto se riferisci una sola parola ti faccio mettere in prigione giurami che starai zitto ho giurato quel che ha voluto ma seguitavo a non capire avevo la fronte sudata allora mi sono levato l'elmo dove tenevo il fazzoletto lei mi ha preso il fazzoletto e mi ha asciugato i capelli sulle tempie poi mi ha dato un bacio bisbigliandomi nell'orecchio allora hai voglia certo farò quel che volete sono qui per questo mi ha fatto capire apertamente quel che voleva quando ho visto di che si trattava ho posato l'elmo su una seggiola le ho fatto vedere signor capitano che quelli della cavalleria non si tirano mai indietro non che fossi molto attratto perché quella donna non era quel che si dice un fiorellino ma sul lavoro non si può far tanto i raffinati visto che di quattrini se ne vedono pochi e poi devo aiutare la famiglia pensavo qui ci scappa uno scudo per il babbo finito il servizio signor capitano ho fatto per andarmene lei non voleva che io me la battessi tanto presto ma io ho detto ogni cosa al suo prezzo signora un bicchierino costa due soldi due bicchierini costano quattro soldi e io ho capito l'antifona e mi ha messo in mano un napoleone piccolo da dieci queste monete non mi piacciono perché in tasca scivolano e se le tasche dei pantaloni non sono cucite bene te le ritrovi nelle scarpe o non le ritrovi più mentre io pensavo a questo guardando quella moneta dorata lei mi osservava poi è diventata rossa ha interpretato male la mia espressione e mi ha chiesto non ti sembra abbastanza io le ho risposto non si tratta di questo signora ma se per voi è lo stesso preferirei due pezzi da cinque lei me li ha dati io sono andato via signor capitano si tira avanti così da diciotto mesi ci vado tutti i martedì di sera quando voi mi date il permesso mi piace di più perché la domestica è a letto a quell'ora ma l'altra settimana non mi sono sentito bene e ho dovuto farmi schiaffare in infermeria venuto il martedì non c'era modo di uscire e mi rodevo il fegato pensando a quei dieci pezzi che mi ci ero abituato ho pensato se non ci va nessuno sono fregato quella prenderà di sicuro un artigliere ero preoccupato allora ho fatto chiamare pomel che mi è compaesano e gli ho spiegato la faccenda ci sono cinque franchi per te e cinque franchi per me d'accordo lui ha accettato ed è andato gli avevo dato le informazioni ha bussato lei ha aperto e lo ha fatto entrare poi lo ha guardato in faccia e si accorta che non era quello capirete signor capitano due cavalleggeri quando hanno l'elmo sono uguali ma ecco che lei si accorta della trasformazione si è arrabbiata e ha detto chi siete che volete io non vi conosco allora pomel si è spiegato le ha detto come qualmente mi sono sentito male e lui è stato mandato come sostituto lei lo ha guardato mi ha fatto giurare il segreto anche a lui e poi come vi potete immaginare se l'è preso dato che pure pomel non è da buttare via però quando quel bastardo è tornato signor capitano i miei cinque franchi nisba se fosse stato per me avrei anche abbozzato ma c'era di mezzo mio padre e su questo non si scherza gli ho detto per essere un cavalleggero questo non è il modo di fare così tu sputtani la divisa ha alzato le mani signor capitano dicendo che un servizio di quella specie vale più del doppio ognuno la pensa come gli pare no ma allora non doveva accettare gli ho dato un cazzotto sul naso il resto lo conoscete raccontandomi questa storia il capitano d'anglemer rideva fino alle lacrime ma ha fatto giurare anche a me il segreto che aveva assicurato ai due soldati anche voi non traditemi tenete tutto per voi promesso non temete ma poi come andata a finire come ve la do ad indovinare fra mille la vecchia bonderois si tiene tutti e due i soldati ognuno in un diverso giorno in questo modo sono tutti soddisfatti è spassosa proprio spassosa e i loro vecchi genitori hanno un tozzo di pane in più e la morale è salva